Antonio Montuoro, consigliere regionale dei Fratelli d'Italia. Siamo qui a Soveria Mannelli per la prima fiera dell'agricoltura e dell'artigianato nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario della fondazione di questo istituto. Sì, per me è sempre veramente un grande piacere tornare in questo meraviglioso territorio di Soveria Mannelli che abbraccia un comprensorio molto importante dell'entroterra calabrese e siamo qui per testimoniare la vicinanza della regione rispetto ad eventi del genere, sia per festeggiare il cinquantesimo anniversario della fondazione dell'istituto agrario sia per omaggiare i ragazzi che hanno organizzato questa fiera agricola, un momento importante per valorizzare quelle che sono le nostre eccellenze calabresi, per valorizzare quelli che sono i prodotti che una meraviglioso terra come la Calabria può offrire e soprattutto per valorizzare questo importante lavoro che hanno fatto i ragazzi, che ci hanno messo tanto amore, tanta dedizione e i complimenti vanno sicuramente a loro, a tutto il corpo docente, al dirigente scolastico, ai sindaci di Soveria Mannelli e Decolatura che hanno particolarmente caldeggiato questo evento. Grazie. Grazie.